ciao allora oggi parliamo di contorno occhi e in particolare di questo contorno occhi quello contorno occhi idratante dei provenzali azione rigenerante, olio di rosa moschetta, levica tonifica compatta allora intanto prima cosa è la quantità se la trovo se non apro la confezione è un 15 ml quindi la quantità classica di un contorno occhi se riesco ad aprirlo perché l'ho chiuso troppo bene a quanto pare ecco qua eccolo qua il prodotto e cosa devo dire mi è piaciuto l'ho trovato una volta in offerta perché ne sentivo sempre parlare ma non l'avevo mai provato e invece l'ho trovato in offerta anche un super sconto e quindi ho detto ma proviamolo devo dire che mi è piaciuto davvero allora non fa i miracoli quindi se avete molte borse e molte occhiaie il miracoli non li fa sicuramente però ho trovato che come si dice ha un'azione idratante che è molto importante e poi comunque sia questa formulazione con l'olio di rosa moschetta tende a rinfrescare un pochino quindi è perfetto in estate perché comunque decongestiona ma anche tutte le mattine la sera un po' meno ma la mattina per intrescare lo sguardo ne applichi poco poco poi vai a picchiettarlo ed è molto valido oltretutto ha una bella formula idratante ve l'ho detto ma assorbe immediatamente quindi potete anche truccarvi dopo tranquillamente io lo uso mattina e sera non ho notato miracoli però comunque sia tende a idratare i contornocchi quindi non ci sono le rughette queste cose bello oltretutto l'inci è davvero molto molto valido e quindi ve lo straconsiglio perdonatemi la profumazione è delicatissima e non va a irritare assolutamente gli occhi non dà problemi dice di essere testato contro i metalli pesanti nickel, cromo e cobalto è un curly free quindi davvero io mi è piaciuto sicuramente va a finire tra i contornocchi e i miei preferiti che vi farò un video a breve e niente fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero di stata utile e vi do appuntamento alla prossima recensione beauty se ti è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale così non perdere le prossime recensioni alla prossima ciao ciao